15 giugno 2012, in questo momento c'è uno splendido tramonto sulla terra dei fuochi. Qui siamo a Giuliano, questo è il primo, poi ce ne abbiamo un altro dalle parti di sempre Giuliano, anzi ne sono due, la zona dovrebbe essere intorno a Taverna del Re. Eccoli. E per poi andare a Casacelle dove c'è quello che ormai sono tanti anni e sempre alla stessa ora in estate. Assistiamo dalle parti di località Sant'Antonio, se non sbaglio. Questo è quello di Casacelle che in questo momento il fumo va verso il centro di Giuliano. Quindi Casacelle Questo di Questi due tra Taverna del Re e la Resit famosa, che probabilmente ieri le serpaglie da cui sarebbe partito in contemporanea poi in quattro, vicino a quattro discariche, non una, ma in contemporanea quattro discariche, hanno il caso incendiato e questo è l'ultimo. Panoramica, sulla terra dei fuochi, alle ore 8 e 30 del 15 giugno 2012. Buon respiro a tutti gli abitanti. Grazie. Grazie.